Sarò pure un fidanzato di merda, ma... Sembra che sia un bravo babysitter. Lui è qui. Lui è qui chi? Anderson! Anderson, è tornato, è tornato! Sono tornato! Ti hanno preso! Mi hanno preso! Sì! Di quanti bambini sei amico? Non tutti hanno capelli perfetti come te. Non si tratta dei capelli. La chiave del successo è fingere che non ti interessi. Anche se ti piace. Sì, le ragazze impazziscono. E poi? Poi aspetti fin quando... Non la senti. Senti cosa? È come prima di un temporale, sai? Non la vedi, ma la senti. Una specie di... Elettricità. Capisci? Come il campo elettromagnetico quando le nuvole nell'atmosfera... No, 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 no. È come... Come un'elettricità sessuale. Oh. Tu la senti? E allora... Puoi fare la tua mossa. E a quel punto la baci? No, wow, 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 wow. Rallenta, Romeo. Scusa. Sì, ok. Alcune ragazze... Sì. Vogliono che tu sia aggressivo, sai. Forte. Audace. Come... Non so, come un leone. Ma con altre devi andarci piano. Devi essere furtivo come... Come un ninja. Gesù, chiudilo, spostarlo. Dio mio. Fabergé. Cosa? Fabergé biologico. Usa lo shampoo e il balsamo sui capelli umidi, non bagnati, ok? Quando sono umidi. Umidi. Vieni qui, va a te! Ne vuoi un po'? Penso che sia di qua. Lo pensi o ne sei sicuro? Ne sono sicuro al cento per cento. Seguitemi e vedrete. Oh, oh, oh. Ehi, ehi, ehi. Non credo proprio. Che c'è? Se uno di voi stronzetti muore qui, la colpa sarà mia. Chiaro, imbecille? D'ora in poi vado avanti io. Andiamo, forza. Tutti i tunnel arrivano qui. Magari se diamo fuoco a questo... Ah, sì, per me no. E il Mind Flayer richiama la sua armata. Cercherebbero tutti di fermarci. E noi torniamo all'uscita. Quando si accorgeranno che siamo andati... Undi sarà alla porta. Ehi, 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 ehi. Non se ne parla. Ma... No, 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 niente, ma ho promesso di proteggervi, stronzetti, ed è quello che farò. Noi restiamo qui in panchina e aspettiamo che la squadra dei titolari faccia il suo lavoro. Avete capito tutti? Questa non è una stupida partita. Ho detto avete capito tutti? Idiota, i tuoi bambini sono qui. Ancora? Sul serio? Andiamo, andiamo. Giuro che se qualcuno viene a saperlo... Siamo morti! Ragazzi, forse dovreste, insomma, stare indietro. No. Tu stai indietro, ok? Stai indietro? No. Sul serio? No! Se muori tu, muoio io. Ok? Muometevi! Andate, uscite di qui! No, forza, ora! No! Fam cercare aiuto, ok? Che stai facendo? Corri! Non vi dimenticherò! Ehi, che c'è? Ma dai, stai benissimo, ok? Che ho fatto? Stai benissimo, ok? Ora entri là, bello come il sole, e poi li stendi tutti. Come un leone. No, questo non farlo. Ok. Auguri.